Si chiama Cantieri Popolari ed è la nuova formazione politica che Innocenzo Leontini, ex capogruppo del PDL e l'Assemblea regionale siciliana, ha messo in piedi per la prossima tornata elettorale in Sicilia. Stanco di sacrificarsi per il PDL dopo quattro anni di opposizione e non avendo avuto alcun riscontro e sfibrato per la guerra a distanza con l'altro coordinatore provinciale, Lino Minardo, ha preferito togliere l'incomodo e insieme ad altri ex deputati azzurri e quello che resta del PD, la corrente fu riuscita dall'Odici e rappresentata in Sicilia dell'ex ministro Savero Romano ha deciso di correre da solo. Ieri, prima presa di contatto in provincia di Ragusa, riunione con amici e simpatizzanti nella sala del Mediterraneo a Ragusa, Leontini ha spiegato le ragioni della sua scelta e il percorso individuato, sapendo di infilarsi in una difficile avventura ma consapevole di farcela anche stavolta perché, come dice lui stesso, io ci metto la faccia. Nella corsa alla presidenza appoggia Nello Musumeci e la prossima settimana annuncia i nomi della sua lista a Ragusa, non escluso il coinvolgimento dell'ex presidente della regione siciliana, Peppe Drago.